Coronavirus, stabili i dati ufficiali diffusi ieri, dati che indicano in provincia di Cremona sette decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 918 morti e 74 nuovi contagi, portando il totale a quota 5.491. Ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva, mentre cresce il numero di coloro che ormai guariti vengono dimessi. Resta invece isolato il sindaco di Cremona, Gianluca Gallimberti, nei giorni scorsi sottopostosi al tampone. Un primo ha dato esito negativo, il secondo invece esito positivo. In settimana l'esame andrà pertanto ripetuto. Il primo cittadino si trova in quarantena a casa propria dallo scorso 22 marzo. Intanto il consigliere regionale dei 5 Stelle, Marco degli Angeli, tenendo conto di uno studio epidemiologico condotto dal professor Paolo Ricci nel Cremonese, ha chiesto da TS Valpadana di integrare i dati relativi ad un eventuale collegamento tra inquinamento e diffusione nel coronavirus. L'obiettivo è quello di capire se le polveri sottili siano o meno in grado di trasportare il virus e di rendere la patologia più feroce.